Noi come Comune di Tavuglia siamo sempre stati molto sensibili in questa amministrazione ai temi della sostenibilità ambientale. Questo ci porta anche ad avere avuto anche in passato molto senso di responsabilità. Dal 1991 abbiamo una discarica che è stata ampliata nel 2008. Pochi anni fa abbiamo accettato e già esiste un TM sul luogo vicino alla discarica Casprete, il futuro impianto TMB che sta seguendo l'iter della conferenza di servizi con ulteriori verifiche geologiche e geognostiche e ultimamente si sente parlare del biodigestore. Noi non abbiamo nessuna contrarietà all'impianto in sé, anzi io direttamente mi sono anche confrontata con altre realtà molto importanti in Italia come può essere Contarina che sta proprio trasformando un impianto di compostaggio in un biodigestore anaerobico. La cosa che ci dispiace molto è che avendo noi già impianti che nel nostro caso trattano e smaltiscono rifiuti a livello provinciale anche, dover avere vicino al nostro territorio seppure in un altro comune un altro impianto che in questo caso recupera rifiuti, e chiaramente non è la stessa cosa però avremmo preferito che si seguisse l'originaria destinazione anche se non formalizzata che era quella di localizzare questo impianto di biodigestione a Fano o comunque nella Valle del Metauro. Per quanto riguarda tutte le altre cose che si sentono dire sul biodigestore, tutti i partiti politici, tante persone eccetera, io ho letto con interesse e devo dire con condivisione un pensiero di Oriano Giovannelli dove dice che la politica deve tornare a fare gli interessi della collettività e delle istituzioni e non interessi dei singoli siano essi già eletti oppure che si devono candidare. Sposo appieno questo pensiero e sarebbe veramente opportuno che tutte le forze politiche e tutti i singoli e le istituzioni seguissero quello che è l'importante soddisfacimento delle esigenze del territorio, quindi quando si parla di temi molto generali come riduzione di emissioni di CO2, sostenibilità ambientale, economia circolare, bisogna anche essere pronti e preparati ad accogliere tutto quello che serve per essere un territorio autosufficiente. Questo però per quanto mi riguarda mi porta a delusione perché non è stato portato avanti quello che era già un accordo, ripeto, anche se non formalizzato però, di realizzare questo tipo di impianto in un'altra vallata della nostra provincia. Questo per avere una dimensione territoriale e soprattutto una localizzazione di impianti che sia non localizzati tutti nella stessa area.